La parodontite è un'infiammazione delle gengive e delle strutture che sostengono il dente. Se non viene curata, può causare la perdita dei denti. Sapevate che la parodontite e il diabete sono strettamente collegati? Le persone con parodontite hanno maggiori probabilità di sviluppare il diabete e viceversa. Il diabete aumenta la prevalenza, la progressione e la gravità della parodontite. E la parodontite influisce sul controllo degli zuccheri nel sangue e nel diabete. La buona notizia è che la parodontite è facile da diagnosticare e da controllare. Tenete a mente questi suggerimenti. Per prevenire le malattie delle gengive, chiedete consiglio al vostro dentista almeno due volte l'anno. Il trattamento precoce della parodontite può ridurre il rischio di pre-diabete. Se avete il diabete, parlatene con il vostro dentista. Controllate il vostro peso. Mangiate in modo salutare e non fumate. Tenete sotto controllo il vostro diabete. Riducete lo stress e fate attività fisica. Lavatevi i denti due volte al giorno. Pulite tra un dente e l'altro ogni giorno. Usate lo scovolino o il filo interdentale. Ricordate, la terapia parodontale è sicura ed efficace. Prendetevi cura delle vostre gengive. Controllate il diabete.